Sì, il video di oggi direttamente dal mio desktop perché ho visto che il video di ieri su come mettere più link nei post di Instagram vi è piaciuto molto e allora ho deciso di farvi vedere un altro tool che mi hanno segnalato proprio persone che hanno commentato quel video dicendomi che esiste anche un altro tipo di tool, di strumento che ti permette di avere un unico link questo qui in questo caso, ora vi spiego tutto è un unico link da mettere nella biografia che poi ti riporta ad una pagina con più bottoni a cui puoi attribuire un altro link questo tool si chiama linkter.ee voi vi collegate su linkter con la k, linktree dovrebbe essere quindi però linkter.ee vi registrate, quindi fate il login attraverso Instagram quindi vi chiede di accedere con i dati di Instagram voi entrate e praticamente vi ritrovate dentro questa schermata ok, qui c'è il link che poi noi andremo a copiare e metterlo nella nostra biografia e qui adesso insieme voglio vedere insieme a voi fare insieme a voi, farvi vedere come è semplice io qui posso scrivere blog, così e quindi puoi mettere l'url qui htt, anzi facciamo così facciamo michele maraglieno michele maraglieno copia e qui incolliamo ok eccolo qua fantastico qui clicchiamo su add new button link possiamo mettere eh, facebook spettacolare e mettere ihche di ttp 2.p app 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 gu ok e scusate punto facebook punto com slash michele maraglieno Ed eccolo qui, che spettacolo! Poi possiamo mettere YouTube, mettiamo YouTube, scriviamo YouTube, poi potremmo anche personalizzare il nome dei pulsanti, vabbè Facebook lo lasciamo, però su YouTube potremmo scrivere i miei video, nel mio caso, però vabbè, lasciamo YouTube in questo momento, ci aggiungiamo YouTube, scusatemi, youtube.com slash mmaraglinofficial, è questo, e ce l'abbiamo qua, e credo proprio che potremmo addirittura spostarli, che spettacolo! blog, YouTube, Facebook, che ne so, poi mettiamo musica, o mettiamo Spotify, o mettiamo musica, che mettiamo? I miei dischi, io scrivo, i miei dischi, quindi il collegamento a Spotify, che non ricordo, allora clicco qui, faccio così, magari copio, cerco Michele, Michele, Maraglino, boom, eccolo qua, se faccio tasto destro qui, condividi, copia link dell'artista, spettacolo! allora scriviamo noi i miei dischi, facciamo la mia musica, la mia musica, e facciamo in colla, tac, la mia musica, blog, YouTube, Facebook, mi sembra ottimo, volendo aggiungere un altro, possiamo fare corsi, va, visto che i miei corsi sono molto belli, mi piacciono tanto, corsi, e li linkiamo questa pagina, con tutti i corsi, addirittura potrei fare, bellissimo, corsi, guardate quanti pulsantoni, ecco, dopo così, io direi che basta, e potrei anche mettere il materiale gratuito, quindi però se io clicco qui, adesso, mi esce tutto questo, questo lo prendo, faccio copia, e lo metto in, nel link in bio, vediamo, eh, Instagram, Michele, Maraglino, non so se me lo fa fare dal desktop, ora, non faccio modifica, non ve lo faccio vedere dal vivo, perché poi mi esce, mi esce il numero di telefono, comunque faccio modifica profilo, e lo metto qui, e quindi la gente, vedete, helping you, e si ritrova, metto questo link, e guardate, corsi, spettacolo, la mia musica, spettacolo, magari la mia musica, ce lo metto uno Spotify, in, tra parentesi, Spotify, tra parentesi, la mia musica, Spotify, Spettacolare, no ragazzi? Se io faccio, aggiorna qui, corsi, la mia musica, blog, YouTube, cosa metto prima? Corsi, mettilo per ultimo, va, sembra che, mettiamolo per ultimo, la mia musica, blog, mettiamo YouTube prima, no, no, lasciamo così, mi piace, ecco qui il mio unico link, con un unico link, tutti questi pulsantini, il tool in questione è questo qui, il link, link tree, link tree, cioè link, linkt.ee con la password, e potete creare il vostro, praticamente il vostro profilo, diciamo, la vostra pagina con tutti i link, vedete, te lo crea in automatico col nome utente di Instagram, perché quando entrate la prima volta, vi fa loggare con i vostri, con i dati di Instagram, e quindi poi in automatico ti crea linkt.ee slash il nome utente, credo sia molto, molto, molto utile e pratico.